Ciao ragazzi, oggi parliamo di calze tecniche da calcio. Abbiamo iniziato a conoscere questo prodotto nei mondiali del 2014 ed è stato poi utilizzato dalla gran parte dei giocatori professionisti su tutti i campi dei casi. Quello che vi vogliamo presentare oggi è il nuovo prodotto di PDX, è un prodotto molto tecnico che ha in sé tutte le caratteristiche che lo rendono uno dei prodotti migliori sul mercato con un prezzo decisamente accessibile a tutte le casche. Le qualità di queste calze PDX sono molteplici, si va dalla compressione della caviglia a una particolare traspirabilità del prodotto, il punto vero di forza è però come sappiamo il grip sotto la pianta del piede. La particolare disposizione dei cuscinetti in silicone rende infatti questo prodotto ideale per evitare ogni scivolamento all'interno del piede quando stiamo giocando. Ciò ci consente di avere una maggiore accelerazione in fase di scatto e di avere un controllo e un comfort totale all'interno della calzatura. Ma come si utilizza questa calza? La risposta è abbastanza semplice. Quello che vedete qui è quello che ci serve per indossare le calze come un vero professionista. Quindi abbiamo quelli in forbici, le nostre calze PDX, in questo caso bianche, abbiamo poi il calzettone vero e proprio, sempre di colore bianco e il nastro che andremo ad apporre. La prima cosa che dobbiamo fare per indossare le nostre calze PDX al meglio è andare a tagliare il nostro calzettone a un'altezza sufficiente per avere lo spazio di indossarle correttamente. Quindi in questo caso all'altezza della caviglia facciamo un taglio e ripetiamo l'operazione sull'alto calzettone. Eccoci in spogliatoio, andiamo ad indossare le calze PDX. Andiamo a sistemare i nostri calzettoni sopra la calza a un'altezza che sembra giusta, più o meno, per coprire poi tutta la parte superiore. L'ultima cosa che dobbiamo fare è chiudere il tutto con del nastro che ovviamente abbiamo dello stesso colore, per regolamento non possiamo avere il nastro di un colore diverso. Non ci resta che indossare le scatte e andare in campo. Concludo tutte le nostre operazioni, i nostri preparativi. Ecco come appaiono le nostre calze PDX che ci permetteranno di avere un grip ottimale in tutte le fasi della partita. Non ci resta che andarci a godere il match. Vi ricordo di rimanere iscritti sempre sul canale YouTube di Sportit e che trovate le calze PDX e tutto il necessario per rendere al meglio durante la vostra partita di calcio su sportit.com. Ciao!